Ciao a tutti belli e brutti! Fai ciao! Fai ciao! Bene ragazzi, oddio sono lumpa lumpa oggi Sono le ore 9.05 e fra un po' noi partiremo per prendere il treno e andremo a Roma! Sì! Andiamo a trovare la zia mia e abbiamo il treno a meno 10 a mezzogiorno Tu cosa stai facendo? Stai mettendo biscotto? Abbiamo il treno a meno 10 a mezzogiorno da Padova Ho terminato adesso di preparare le valigie Oddio, oddio, oddio! Sono tutta agitata! Cioè, è una vita io che non vado a Roma Manuel non c'è mai stato Alessandro ovviamente non c'è mai stato e sono emozionatissima Lo vedo l'ora Sono piena di raffreddore Era ovvio Cioè, era più che ovvio Vado via una volta ogni morte del Papa Io mi ammalo È ovvio Ecco, quindi dovrete sopportare Spero che non dovrete sopportare per tutto il tempo questa mia voce da trambone Qua abbiamo la nonna che ci accompagnerà a prendere il treno Saluta Forse ci piace Adesso beviamo un caffè Siamo agitati Sì, è agitata Sono agitata Sì, è agitata Sì, è agitata Sì, buono Ciao Ciao, buon viaggio Dove? Ah, dove va? Hai visto il tuo primo treno, amore? Che stai facendo? È buono il succo Sono agitata Faure Sono un po' agitata Quindi per calmarmi un buon caffè Ale Basta Mi stai capando Ok, siamo arrivati Da poco Io sono impanicata Non capisco il cacchio C'è un casino Della madonna Allucinante Non so dove sono Non so dove devo andare Speriamo di arrivare Di non perderci Cioè ci perderemo sicuramente Finalmente siamo arrivati Abbiamo fatto da Roma termini Al nostro bed and breakfast Che è praticamente dietro al Vaticano A piedi E siamo arrivati Adesso ci sistemiamo Vi faccio vedere La stanza Allora qua c'è Il bagno Vediamo se riesco a provarlo a vedere Molto interessante Questa è la doccia Ecco Qui c'è il lavandino Lo specchio Ciao Telefoni che suonano Sarà la zia Tavolinetto Già incasinato Lì c'è l'armadio Il letto Un cadavere Un nano che sta disfando tutto il letto Ehi Ale Ale Cosa stai facendo Eh Lì c'è un altro armadietto Sei stanco Bene Molto bene Lì c'è una tv E adesso disfiamo la veligia E poi ci incamminiamo Andiamo a mangiare qualcosa Da qua E poi ci incamminiamo E poi ci incamminiamo Dove stiamo andando Come non lo sai Il lavandino sarebbe la fontana di tre Vai 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 uko Vai 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 Ok Training On accomplishment La mamma è già nel suo lettino Tu dove sei? Dove sei? Di ciao buonanotte a tutti Ciao buonanotte a tutti Ci vediamo domani Ciao